devono un pochino svecchiare il gioco come si dice controllo vediamo un po quale faccia un po le mani scontorriamo siamo contro adaman kandmon no non è vero un cazzo l'altro giorno non so se ti ho detto c'erano i non mi buggati su warzone si ma hai detto sai perchè ho attivato la marita streamer quindi mi metterà tutto tipo di cazone ii sono fucking cretin no no non ho un pano un po' un po' un po' di No, sta dentro! Ah, esce da noi, esce da noi. Eh, non ho preso da niente. Vabbè, my big hand già conquistata. Easy. Oh, Gesù Dio, ma non è qualcuno, c'è il XM4 con l'occhio. Certo. Certiamo diverse zone. Bisogna reagire. Contendiamo A. Una ria da banca da? Ah, ma sono natural. No, no, un colpo alfa! Vedo le rai da... Occhio in B, occhio in B, occhio in B. No, no, è il camion bianco, il camion bianco. Il fulgone bianco qua davanti a te. Ho ferito, però. Sai com'è? Non ho preso. No, porca puttana che... Cazzo, mi sta andando reshottata? No, ma viva. No, poverino, che gli ho fatto! No, 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 no. Mi è bastato vedere la mini mappa, cioè. Ti ho sparato sti 500 mega addosso. Vabbè, poi subì. Nella finestra in angolo sotto bank. Il nemico ha bravo. Ci rimane solo. No, dai, 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 dai. Sono qua da me, dietro il camion bianco, aiuto. Eh, sì, sto al mid, sto... Stavo cercando di mantenere posizione. Due dentro. Laten, passato. Vediamo alfa. Dai però ho mezza... Eh, se è questo c'è un technology scar. Dai, ragazzi. Ammazzatemi dentro che vinciamo e puoi chef! No, 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 no Chia, quando volete io ci sono Vieni a giocare l'anzio cane che dopo feschi Prendiamo tutte le zone nemiche No, non so, c'è altra IAM Fa 2.000, uno viene qua adesso a due No, la dietro, la dietro, farci vedere Catturiamo Alpha Mi sta spaventando una cosa Cosa? Sto facendo più hit del previsto con la K Non so se è un problema mio, un momento di connessione o meno Ma capì, non tendi? Ah, boh Alpha in mano nostra Avanti, prendiamo l'ultima zona Ho lasciato in culo Ho ciecato No, dentro il bar Sta nascosto, sto un fame Ah, uno è sotto la finestra nostra da casa Eh sì, faccio la finestra a sinistra Figlia Il nostro sistema Trophy è stato distrutto Ho preso quello sotto a noi Uno viene dal mid No, 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 è ma scoppiato così Ok, per esempio, entra il bar 15, 15, uno spawn nostro No, ecco il zio, cucina, cucina, viene mid, cucina, viene mid Catturiamo B No, due mid, due mid dittati scale No, non è il compagno che non ti aiuta Eh, boh Ho sparato lontana Aspetta, sono in vantaggio di K, non so Uno viene dal campo al basket Uno in banca Banca preso Il campo al basket è preso, sta dentro una hill 5-11, non c'è la parola Sono rimasti con poche vite, facciamoli fuori Abbiamo finito le vite Catturiamo B Sì, ormai siamo agli ultimi secondi Forza Io c'ho campo da basket I nemici con sé Sono rimasti in vantaggio Alla via La basket No Due di due, due di due Una mida Oh, due wasshot Sì, 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 sì Oh, mamma mia che gli abbiamo fatto Quanto stai te? Suca, suca, suca Quattordici, dodici No, ma sto giocando male Inversione punti di raduno Tu quanto stai? 21-10 Passo da alfa Se non me che si attaccano altri Eh beh, lauro Marci le zone Sant'Amarcuna Che cazzo che vanno beta questi Un po' di disco, vado Ma wasshot dentro uno Ma già hanno preso altri Eh, comunque cazzo Stamola di testa Cioè, inizio partita Riescono a fare un chiusino Che ti mettono in due down Hanno già conquistato una possazione Ma già c'entrata a fare Contendiamo B Guarda a casa, bastardi C'entrata un profi Distruggi un po' Deve essere una finestra sotto banca Eccolo Trovato Top casa, uno Speso quello che sparava Ho preso la casa Duota mid, duota mid Ah, mi ha preso Sparava al muretto Stai sbagliato Non ho ferito Ah, XM4 Nuova arma Definitiva Non ho fatto basket Quindi ci girano da destra Infatti, presa con spawn C'è via ermita Ok No, ma è un po' No, ma è un po' Tutti qua i buon panni C'è scala Eh, buon po' E va bene Eh, va bene Eh, va bene Va bene Va bene Eeeh, fisse Uno ci gira dietro Ci girano da destra Perché sono suonato basket Ancora Presa qualche gira Eh, ho lasciato sulle scale Viene giungola Preso Dai, uccidilo Oh, non ce la misura Compagno di merda Sappiamo cosa fare Sono andato male Sono andato della destra Io E' c'è ma Uno sta qua Ma perché Uno ci gira Vabbè, ma ci non stanno a prendere Ormai manca poco Date il massimo È mid uno Preso un mid Un altro, un altro Un bravo, ho preso Ma ci restano poche vite Mamma mia, come faccio Sono andato dentro Sono andato dentro Il nemico ha finito le vite Le porte osservate sono andato Questa legazzo Che va a fa? Chio banca Un nemico solo Sciodo Gli imperialisti hanno capito Che non scherziamo Scemi Un caesame Quanto Quanto Inversione Parti Si Prendiamo tutte le zone Nemiche Uhuhu Uhuhu Siamo tutti e quattro Fa chiusino Su alfa Uno 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 Ah C-a-puc-tana 2000 E uno pusha da noi Prendiamo alfa Sto arrivando, sto arrivando a costa, arriva Ciao raga Bella, GG Ah, vaffanculo, rinagolo delle scale Ancora via Mi hanno levato il nabal, mi hanno levato Ah, è vero Ok, non ce l'ho io Non ce l'avevo pipaggiato, non ce l'avevo più No, sta qua dentro la cucina, mortale, si è preso La casa nostra ha preso No, zio cantante, da basket basket 1 No, ma squagliato dentro la stazione del basket Va sopra la casa nostra No, sono un pezzo di merda, sono Sta dietro la macchina rossa del raid Preso Basket So spawnato a sinistra 1, ce l'abbiamo a spawn nostro a destra Si, si, va in cosa dove, in casa nostra Ma Sono rimasti con poche vite Oh, sinistra, t'ha visto, t'ha visto Scoppiato, via Non mi ha neanche... O, ci credi che non mi ha caricato manco un punto per le ricompense? Pure a me Ho cambiato qualcosa Ormai siamo agli ultimi secondi, forza Catturiamo, bravo Stiamo per finire le vite Ha uno in finestrella quella sopra al basket Uno dietro al basket preso Piglia, 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 tutti insieme Ma guarda che si, t'hanno messo il trofio Ma va più veloce se sei dentro in più Sì, 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 più siamo più va veloce 43-21 comunque 32-21 Oh, ma chi è questo giocatore fortissimo? Beh, beh Oh, c-c-i Non sapete, fa una riga Eh, sei finito ma? Sì Vai, finisco, invitato L'ultima Quindi poi, teoricamente, dovremmo giocare contro della gente forte Eh? Ma... io... fare una cosa invece ... ... ...